Nuove costituzioni di parti civili da parte di conf consumatori. Con gli ultimi atti di richiesta depositati alla procura di Arezzo, salgono a ben 130 gli obbligazionisti secondari di Banca Etruria che hanno chiesto di costituirsi parte civile nel processo contro i vertici della vecchia popolare aretina, accusati di ostacolo ed intralcio agli organi di vigilanza. Abbiamo deciso di tentare ulteriormente la strada della Costituzione in questo processo, questo perché l'autorizzazione di Banca d'Italia secondo il percorso e le indicazioni del capo di imputazione sarebbe stata viziata dalle false informazioni fornite dai vertici della banca secondo le quali con 100 milioni di aumento di capitale sociale si poteva tranquillamente salvare la banca e abbiamo visto che così non è. Quindi a maggior ragione se Banca d'Italia è stata intralciata ed ostacolata nella sua funzione a maggior ragione coloro i quali si sono affacciati nei mercati finanziari e hanno scommesso su Banca Etruria l'hanno fatto su informazioni evidentemente false. Non escludete di chiamare in causa anche la vecchia banca? Non lo escludiamo, vediamo in caso di ammissione quello che sarà possibile fare perché a mio avviso per i vertici della banca ne deve rispondere in solito la vecchia banca. Chi sono le persone che si sono rivolte a voi? Sono 130 persone, 120 delle quali risiedono in Toscana e hanno complessivamente investito in Etruria 3 milioni e mezzo di euro fra obbligazioni subordinate ed azioni. La sensazione palpabile è che si voglia confondere le acque, si voglia evitare in realtà di aggredire l'unico soggetto vero che è la nuova banca dell'Etruria e del Lazio. Questo perché qualcuno probabilmente ha sottovalutato la portata di quello che stava facendo, ha sottovalutato la portata del bollin e ha sottovalutato che agiamo in un contesto di altre norme oltre quelle che riguardano lo stato di insolvenza bancaria, per cui non si può non pagare alcuni debiti salvando l'azienda. Se l'azienda esiste e continua ad operare deve pagare i suoi debiti. Consigliamo a tutti di agire giudizialmente nei confronti della nuova banca per ottenere il risarcimento dei danni.